Ciao a tutti sono giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi A circa due settimane di distanza dalla complessa operazione chirurgica a cui si è sottoposto, Fedez è tornato di nuovo in ospedale La grave malattia diagnosticata al marito di Chiara Ferragni ha tenuto tutti in apprensione per diversi giorni L'intervento affrontato da Fedez è durato ben sei ore, al termine del quale il chirurgo si è detto soddisfatto per l'esito dello stesso Come abbiamo visto da alcune foto caricate sui social network dal cantante, al centro dell'addome ha una vistosa cicatrice che porterà con sé per tutta la vita Dopo un primo momento di sconforto, in cui ha faticato a trattenere le lacrime, adesso Fedez ha la possibilità di tornare a sorridere Ovviamente, come anticipato anche da lui stesso, ora sarà chiamato ad affrontare un percorso durante il quale la sua salute sarà tenuta costantemente sotto controllo Tuttavia il peggio è passato, dato che pochi giorni fa ha finalmente riabbracciato tutti i suoi cari figli compresi Il rapper ha sentito molto la mancanza di Leone e di Vittoria, i quali durante questo arco temporale sono rimasti insieme alla mamma e dai nonni Per il ritorno a casa di Federico la sua famiglia ha organizzato una bellissima festa per fargli sentire tutto l'affetto ed il calore possibile Fedez di nuovo in ospedale, ecco cosa è successo.Una delle persone più felici di riabbracciare Fedez è stata ovviamente sua moglie Chiara Ferragni infatti, che solitamente riesce a mantenere una certa fredezza al contrario del marito che risulta essere molto più sensibile di lei, stavolta è apparsa commossa ed emozionata al termine del difficile intervento che ha subito il cantante Oltre alla sua famiglia tuttavia, anche i milioni di fans del rapper sono letteralmente esplosi di gioia Ora che il peggio sembra finalmente passato però, proprio in queste ore il 32enne milanese è tornato nuovamente in ospedale Tramite una foto da lui pubblicata sulla sua pagina di Instagram, lo vediamo immortalato insieme a dei sanitari Come spiegato da Fedez all'interno di una didascalia inserita della parte alta dello scatto, egli si è recato in ospedale soltanto per un controllo già programmato, piccola visita di controllo a due settimane dall'operazione Con la mia gang di chirurghi preferita. Nonostante la presenza di una mascherina, dal volto del cantante si scruta un sorriso dovuto alla felicità per aver superato un pesante ostacolo che la vita ha posto sul suo cammino Naturalmente il percorso da seguire per lui non è terminato qui, però adesso si può respirare un pizzico di ottimismo in più Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video